Sì, sono molto contenta, è stata una gara molto dura, il tracciato era impegnativo, c'erano salite molto toste e anche nei lunghi piani alla fine bisognava spingere, quindi non è stato semplice, però sono soddisfatta a vincere un oro sempre bellissimo e è quella cosa in più che va a colmare una bella stagione soddisfacente.